Come ho detto prima all'episodio, insomma, a rivederlo così sembra netto, però sono cose che ci possono stare. Non voglio assolutamente entrare nella logica di queste situazioni qua. Descrizione giusta, partita non facile, noi siamo partiti molto bene, il Bari ha fatto fatica a stare sui nostri ritmi, poi noi chiaramente siamo calati, loro hanno avuto qualche situazione dove non voglio essere spaventati, però abbiamo abbassato un attimino la pressione e l'intensità. Da questo punto di vista è chiaro che non aver potuto contare sui giocatori che sulla fascia destra ci potevano dare qualcosa di importante perché sono nel ruolo loro, abbiamo pagato un pochettino, giocavamo quasi sempre a sinistra, e per questo poi ho pensato anche di metterci 4-3-3 per cercare di ridare un pochettino più, intanto di tenere meglio il campo e di avere un pochino di più di palleggio. Non siamo riusciti a farlo perché comunque spesso eravamo frenetici nel ribaltamento del fronte e quindi è stata una partita in cui la palla ha cambiato spesso padrone. Ripeto, una partita in dove ha prevalso forse la paura anche di prendere gol perché sapevamo che un episodio poteva rompere questo equilibrio. Noi l'abbiamo ricercato, magari non con quella lucidità che solitamente abbiamo, però ci sta, non si può sempre pretendere creare occasioni a vincere e fare due o tre gol tutte le partite, quindi prendiamo questo risultato perché è comunque ottenuto contro una squadra importante.